iniziata la partita attenzione costantino il pallonetto altissimo il pallonetto di costantino allora adesso riparte raffaele e poi la para il portiere rosso che non mi ricordo il nome serve enrico enrico cambia di nuovo per il portiere allarga verso ciro attenzione ciro avanza prova la verticalizzazione per enrico se ridico aria basta il vantaggio i rossi vanno in vantaggio i rossi si portano in vantaggio per 0 il col di enrico sul passaggio di ciro allora adesso ricominciano in gruppo stefano sotto senza nome la tocca dietro per zuccherino ma inquadriamo un po più da vicino poi serve ancora non so il nome zuccherino riservito prove la sciabolata lunga per stefano non la controlla male allora il pallone e le braccia di non so il nome appoggia per costantino costantino torna dietro evita stefano e serve centralmente enrico sulla fascia trova poi ciro 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 marcato allora ritocca dietro per enrico il lancio lungo di enrico per costa quasi un tiro è uscito dopo è uscito di allora raffaele centralmente serve stefano messa non mi ricordo il nome allora il pallone esce fuori e vediamo come va a prendere attenzione a ciro la tocca per enrico dice movimento enrico al centro del campo si fa vedere costantino costa viene fermato bene rimesso laterale